buonasera benvenuti a questa diretta di nuovo per parlarvi della medicina ayurvedica questa sera come sempre ringrazio anna tamburini torre e ballantini della opportunità che mi danno già da diversi mesi di far parte di questa trasmissione di questa bellissima rubrica focus 3.0 il mistero della vita e questa sera appunto vi parlerò dei preparati cosiddetti ringiovanenti in ayurveda però buonasera a tutti quelli che si stanno portare questo argomento in maniera particolare vi volevo fare un piccolo ripasso sui principi della medicina ayurvedica qualcuno di voi sicuramente ha già partecipato ad altre mie trasmissioni e per chi magari è la prima volta che si collega a questa trasmissione vi voglio solo ricordare i principi di base della medicina ayurvedica ayurveda significa letteralmente daius vita e veda conoscenza scienza significa appunto la scienza della vita la scienza della lunga vita ognuno ha comunque ovviamente un proprio percorso di vita però tenete conto che in italia in particolar modo in sardegna abbiamo tanti centenari e ultra centenari e queste persone vengono studiate molto approfonditamente dai geriatri ma anche dagli scienziati in generale proprio per un po' scoprire il segreto di questa loro longevità il segreto di questa loro vita così lunga e anche in salute ovviamente perché parliamo di persone longeve ma che anche hanno conservato un buon livello di energia un buon grado di salute e la medicina ayurvedica questo segreto ce l'ha svelato già migliaia di anni fa perché nella ayurveda appunto quello che si sottolinea è appunto il fatto che dobbiamo mantenere a lungo la nostra salute veda, conoscenza, scienza ma anche esperienza di coscienza e in questi ultimi tempi la scienza sta sottolineando proprio l'importanza di un'esperienza profonda di consapevolezza di purezza di pensiero, di purezza di vita, di esperienza di spiritualità perché proprio nel gruppo dei centenari e ultracentenari sempre più studiati dalla nostra scienza quello che è risultato molto evidente è che nessuno di questi ultracentenari non parlo solo di questi che abbiamo in Italia, in particolar modo come dicevo prima in Sardegna ma un po' in tutto il mondo, in questi ultracentenari non c'è nessun ateo questa è una grande considerazione scoperta che ci riporta proprio a quella antica conoscenza quell'antica scienza che è la medicina ayurvedica che fa parte a sua volta di questo corpo di conoscenza antichissimo chiamato scienza vedica che è un po' come fosse la scienza che ci rende più consapevoli di come interagire con l'ambiente di come interagire con le leggi di natura di come rispettare la nostra vita e la vita in generale in tutte le sue sfaccettature e la più importante sfaccettatura della nostra vita la sorgente da cui si emana tutto è appunto la coscienza l'esperienza quindi più quieta della nostra mente ma allo stesso tempo più creativa più formativa per la nostra esistenza quindi quando stiamo bene per la ayurveda non stiamo solo bene a livello della mente, del corpo che già anche nella medicina moderna si è capito che sono due realtà strettamente collegate tra di loro ma la medicina moderna sta arrivando alla stessa conclusione a cui è arrivata la scienza vedica la medicina ayurvedica migliaia di anni fa che non solo dobbiamo avere in armonia mente, corpo e emozioni ma dobbiamo essere profondamente collegati con il nostro sé, con la nostra anima su un templio greco ad elfi è scritta questa frase che molti di voi magari conosceranno se hanno fatto studi classici o se l'hanno ritrovata un po' nel loro percorso di vita questa frase in greco che è gnozzi se autonna che letteralmente significa conosci te stesso ma non conosci te stesso a livello così di quelle che possono essere le nostre considerazioni più superficiali pur sempre vere e importanti ovvero mi piace di più vivere in campagna piuttosto che in città piuttosto che mi piacciono le passeggiate in mezzo alla natura ma oltre a questo qual è la nostra vera realtà qual è la nostra vera natura e nella scienza vedica appunto veda ayurveda vita, durata della vita, portata della vita scienza, conoscenza ma anche veda significa coscienza sé esperienza quindi della vita al suo livello più profondo al suo livello più silenzioso che come ci dicono i fisici già ti ha seguito le altre mie dirette avrà già sentito queste mie affermazioni i fisici ci dicono che l'esistenza di tutto l'universo è basata sulla esistenza di un livello estremamente silenzioso e profondo che i fisici in questi ultimi ormai più di cent'anni hanno definito il campo unificato di tutte le leggi di natura di questi livelli così silenziosi di questa fondamentale energia che tutto crea e tutto pervade parlava già nel 1918 Max Planck che ha preso per le sue ricerche che già erano cominciate alla fine dell'ottocento e primi del novecento ha preso appunto nel 1918 il premio Nobel per la fisica proprio per le sue affermazioni che tutto quello che esiste è energia e questa energia l'essere umano la può sperimentare in maniera molto completa in maniera molto profonda a diversità di tutte le altre creature dell'universo perlomeno quelle che conosciamo qui sulla Terra quindi ogni cosa che esiste dalla pietra all'albero all'animale ha una sua gradazione di percezione e di comprensione della coscienza l'essere umano con quel grande strumento che è il sistema nervoso centrale con tutte le sue diramazioni anche a livello periferico ha la possibilità di rendersi conto completamente di sperimentare anche completamente questo stato di pura coscienza questo stato di pura energia che è alla base di tutta l'esistenza dell'intero universo quindi non ci deve stupire quello che vi dicevo prima che nelle ricerche sui centenari e super centenari si è emerso il fatto che queste persone hanno una loro spiritualità hanno una loro tendenza al raccoglimento interiore hanno una loro ricerca verso qualcosa di superiore di elevato poi ognuno lo chiamerà come vuole non dobbiamo per forza pensare a un tipo di religiosità a un tipo di inquadramento in una certa tendenza religioso-filosofica basta pensare appunto a qualcosa di più elevato che può essere nel campo dell'arte che può essere nel campo della scienza che può essere nel campo della musica che può essere nel campo della percezione di quanto la natura sia perfetta e di quanto la natura vada rispettata quindi saluto tutti quelli che stanno intervenendo che mi mandano i loro saluti grazie a tutti e grazie di partecipare anche questa sera a questa diretta quindi io stavo appunto un po' ricapitolando le regole fondamentali della medicina ayurvedica per poi intrattenervi stasera un pochettino di più su queste preparazioni molto speciali che in ayurveda si chiamano rasayana che noi chiameremmo gli antiossidanti i ringiovanenti quando l'ayurveda ci parla quindi di importanza di integrazione tra la mente il corpo le emozioni e il sé l'anima la pura coscienza ci dice che proprio da questa integrazione dipende poi il nostro benessere fisico mentale digestivo immunitario comportamentale e questo contatto intimo con questo livello è proprio quello che anche nella fisica nelle neuroscienze si è scoperto essere proprio la ragione dell'esistenza di tutte le nostre strutture neurofisiologiche in ayurveda brevemente per chi già ha sentito questo discorso introduttivo queste realtà più sottili e profonde sono individuate nei cinque elementi fondamentali spazio aria fuoco acqua e terra che a loro volta nella nostra fisiologia e nell'ambiente che ci circonda nell'intero universo possiamo ritrovare in maniera più compattata in quelli che vengono chiamati i tre dosha i tre principi metabolici più profondi che guidano le attività della nostra intera fisiologia della nostra intera esistenza quindi come anche ormai nella medicina moderna si è scoperto si è approfondito tutte le centinaia migliaia di malattie che sempre di più vengono catalogate vengono scandagliate vengono evidenziate in realtà anche per la medicina moderna dipendono fondamentalmente da sette fattori da sette come dire squilibri generali della nostra fisiologia tra questi sette i più importanti più evidenti che coincidono proprio con la visione della medicina moderna scusate la medicina moderna con la medicina ayurvedica sono questi due termini spesso nelle metodiche scientifiche si usano termini inglesi questi due termini sono inflameging e garbeging inflameging infiammazione e invecchiamento e garbeging accumulo di garbage garbage in inglese vuole dire spazzatura pattumiera quindi accumulo di prodotti tossici di scarto che non vengono adeguatamente eliminati e di nuovo invecchiamento l'invecchiamento ovviamente fa parte del processo vitale su questo pianeta invecchiamo e arriviamo poi all'ultimo giorno della nostra vita però possiamo invecchiare in maniera differente rispetto a un invecchiamento precoce piuttosto che un invecchiamento accompagnato da malattie e da problematiche di salute e questo è un po' il motivo dominante della medicina ayurvedica farci andare avanti nella vita con uno stile di vita di suggerimenti quotidiani di armonia con quelli che ci circondano armonia prima di tutto con lo stesso e armonia con l'ambiente che ci circonda tutto questo viene gestito nella medicina ayurvedica attraverso una metodica fondamentale e entusiasmante che è la metodica dell'analisi del polso cosa serve analizzare il polso di una persona cosa serve questa procedura prima di tutto si va ad auscultare l'arteria radiale del polso sinistro per le donne mentre per gli uomini si ausculta l'arteria radiale del polso destro e nel polso ritroviamo tre punti con le tre dita indice medio e anulare queste tre dita rilevano quei tre dosha di cui vi parlavo prima questi tre principi metabolici fondamentali che guidano le attività della nostra intera fisiologia a livello mentale a livello emozionale a livello fisiologico a livello neurologico e che guidano le attività anche dell'universo che ci circonda nella medicina ayurvedica c'è una frase sanscrita che viene in realtà dall'intera letteratura vedica da questa intera conoscenza di cui fa parte la ayurveda in sanscrito che dice yata pinde tata bramande com'è il microcosmo così è il macrocosmo com'è la mente umana così è la mente cosmica quindi questa precisa corrispondenza tra il piccolo universo no la nostra fisiologia e l'universo enorme che ci circonda la mente umana e la mente cosmica ci dice che tutto quello che esiste intorno a noi è importante va salvaguardato va protetto va utilizzato nella maniera adeguata dobbiamo interagire nella maniera adeguata per in qualche modo far corrispondere quelle alterazioni del nostro organismo con le alterazioni o con le metodiche di riequilibrio che l'universo intorno ci può fornire e questa è la regola fondamentale su cui si basa tutta la terapia ayurvedica no quello che è simile intorno a noi aumenta il simile dentro di noi quindi se io ho freddo la serata fredda o non coprirmi a sufficienza aumenterò il freddo che ho se io ho caldo viceversa avrò bisogno di qualcosa che mi rinfreschi quindi tutto quello che c'è nell'ambiente favorirà questo riequilibrio o lo rallenterà e questa è la regola fondamentale su cui si basa la medicina ayurvedica il simile aumenta il simile il contrario riduce il contrario se ho freddo mi metterò una una sciarpa confortevole e calda se ho caldo aprirò le finestre e farò circolare dell'aria fresca questo avviene poi a tutti i livelli nella medicina ayurvedica nella scelta degli alimenti nella scelta delle procedure di movimento nella mia vita quotidiana nella scelta dell'ambiente in cui mi sento più a mio agio e così via e come ovviamente vi ho già detto in altre occasioni ma ve lo ricordo siccome questo intimo rapporto con noi stessi con quello appunto che viene ormai anche nella neurofisiologia definita la coscienza quindi il livello più fondamentale dell'esistenza quando abbiamo questo rapporto intimo ravvivato e in qualche modo sostenuto dalla coscienza la nostra vita procede in maniera migliore sia dal punto di vista della salute che della nostra creatività che dei nostri raggiungimenti per gli obiettivi che ci siamo in qualche modo prefissati di raggiungere nella vita e questo intimo rapporto con noi stessi la cosa più sorprendente è che è spontaneo avviene in maniera del tutto naturale perché questo stato profondo di esistenza lo stato di pura coscienza lo stato dell'intimo sé è molto piacevole da raggiungere per la nostra mente la mente va dove sta meglio stasera avete scelto questa trasmissione spero perché ricordavate le altre dirette vi sono piaciute oppure scegliete una musica di un certo tipo perché quella melodia vi piace e la mente va sempre alla ricerca di quello che la fa stare meglio voi direte ma se è così facile come mai non succede a tutti di provare questa esperienza in maniera semplice in maniera naturale come appunto vi sto descrivendo in questo momento perché ahimè il nostro organismo accumula nel tempo e quando parlo di tempo non parlo solo degli anni della nostra vita ma parlo l'abbiamo già detto in altre trasmissioni parlo di almeno sette generazioni che ci hanno preceduto che hanno lasciato le loro memorie nel nostro dna quindi queste memorie queste strutture queste questi depositi anche che alterano proprio la struttura del nostro sistema nervoso attraverso questa questo ricordare questi aspetti anche non a livello conscio anche a livello inconscio subconscio questi aspetti condizionano terribilmente il nostro cervello ci sono delle documentazioni proprio scientifiche che fanno vedere attraverso la risonanza magnetica il cervello di una persona sana e il cervello di una persona violenta e il cervello di una persona violenta ha dei buchi funzionali il nostro cervello per fortuna ha la qualità e diciamo viene descritto come qualità di struttura di funzione ma anche di neuroplasticità quindi questi buchi funzionali il nostro cervello li può rigenerare attraverso cosa? attraverso l'esperienza del sé attraverso l'esperienza della pura coscienza vi ho già parlato in altre dirette di quanto a questo proposito sia fondamentale l'esperienza che può fornire la tecnica di meditazione trascendentale di Marishi perché questa tecnica validata in questi più di 50 anni che è stata diffusa in tutto l'occidente da più di 700 ricerche scientifiche ha messo in evidenza che la tecnica più semplice naturale senza sforzo per sperimentare quello stato di quiete in profondità dentro ognuno di noi quindi bypassando quegli ostacoli che il nostro cervello produce grazie a quelle informazioni diciamo deviate che ci provengono anche dalle generazioni precedenti infatti questa esperienza estremamente piacevole semplice naturale che il nostro sistema nervoso fa durante i 20 minuti di pratica di meditazione trascendentale mattina e sera dando alla mente la possibilità di questo acquietamento spontaneo la mente essendo collegata con il corpo quindi con il sistema nervoso il corpo il sistema nervoso entra in uno stato di profondo relax di profondo riposo e il riposo è l'unica pillola magica per eliminare gradualmente ma sistematicamente queste tossine depositate nel nostro sistema nervoso da tanto tempo e da tante generazioni ecco perché secondo la medicina ayurvedica la prima metodica per recuperare la salute è trascendere trascendere cosa vuol dire sperimentare la mente che si acquieta e quando la mente si acquieta il corpo si acquieta e quando il corpo si acquieta spontaneamente elimina questi depositi di vere e proprie sostanze tossiche quello che chiamiamo cortisolo adrenalina acido lattico proteina tau betamiloidi tutte queste sostanze depositate nelle varie aree più deboli della nostra fisiologia perché sono più deboli perché per trasmissione genetica sono quelle che hanno subito più danni anche nelle generazioni precedenti e quindi rimangono più vulnerabili rimangono più soggette a acquisire quelle alterazioni quindi la prima metodica che la medicina ayurvedica e la scienza vedica ci consigliano è ricongiungiti con il tuo sé riprendi la tua memoria si parla proprio di memoria in ayurveda memoria in sanscrito si dice smriti smriti è la memoria profonda la memoria intima e anche la memoria di quello che io adesso mi ricordo per potervi fare tutto il discorso che vi sto facendo stasera ma è anche la memoria intima delle nostre cellule quando si dice che un processo degenerativo nel nostro organismo si sviluppa si dice che una cellula impazzisce che perde la sua memoria di riferimento e che si isola rispetto alle altre cellule quel processo incomincia creando una malattia grave in uno specifico organo e molto spesso poi addirittura allarga questa degenerazione anche ad organi vicini ad organi collaterali infatti secondo la medicina ayurvedica il processo della malattia parte piccolo e questo piccolo partire lo possiamo già trovare vi dicevo prima in quella che è la metodica dell'analisi del polso perché la metodica dell'analisi del polso è estremamente precoce e quindi può rilevare queste alterazioni già nei loro piccoli sviluppi iniziali per la ayurveda gli stadi della malattia sono 6 e i primi 4 stadi sono rilevabili solo dal polso e possono essere quindi già riequilibrati in questi loro primi 4 stadi in maniera abbastanza facile soprattutto come potete immaginare nei primi due stadi il terzo e quarto stadi diventano già pochettino più complicati tra virgolette quindi bisogna intervenire oltre che con un corretto stile di vita corretta alimentazione anche con l'uso di preparati a base di piante medicinali ayurvediche di cui stasera poi vi parlerò in maniera un po' più dettagliata dei prodotti appunto rasaia narin giovanenti quindi i 4 stadi non li ritroviamo nelle analisi del sangue non li ritroviamo nella TAC nella PET nella ecografia quanti di voi avranno fatto negli anni della della propria vita la ricerca di un motivo per i disturbi che aveva e non ha trovato motivi e il medico come al solito ha concluso guardi lei è molto stressato o stressata quindi il problema è quello deve riorganizzare la sua vita come fosse facile riorganizzare la propria vita deve guardi se proprio non può prenda qualche goccia di calmante ma ovviamente questo non risolverà A non risolverà il problema B ne creerà degli altri anche peggiori perché gli psicofarmaci che ahimè sono tra i farmaci più venduti in farmacia sono prodotti che a lungo termine a parte che danno dipendenza suefazione tolleranza cioè non ce ne bastano poi più quelle 10 15 gocce ma ne abbiamo bisogno di più ma ledono i nostri processi intellettivi quindi capite non sono prodotti che vanno usati così con leggerezza detto questo quando invece noi facciamo attraverso l'analisi del polso un esame di come effettivamente stiamo scopriamo che pur sentendoci bene pur avendo avuto il risultato delle analisi perfette chi ci sta sentendo il polso ci dice no guarda assolutamente le analisi rivelano qualcosa di più superficiale che non corrisponde con la realtà dello stato della tua fisiologia e ti confermo che quei disturbi che io ti sto in qualche modo esaminando di cui ti chiedo conferma esistono proprio nel tuo organismo quindi non sei un malato immaginario non hai bisogno di un ansiolitico di un antidepressivo ma hai bisogno di un riequilibrio come la medicina iurvedica ci può consigliare Arabella ciao sono contenta che sei collegata e Arabella dice possiamo fare una sera una meditazione trascendentale di gruppo questo certo noi lo stiamo già facendo proprio perché si è visto che la meditazione trascendentale praticata in gruppo sia a livello virtuale ognuno nella propria casa ma collegato idealmente nello stesso orario di quel fuso orario noi facciamo la mattina alle 7.30 e il pomeriggio alle 18.30 in quel momento quell'effetto che Marisci aveva predetto che si sarebbe verificato già dagli anni 70 di coerenza non solo a livello della persona coerenza dei suoi due emisferi cerebrali maggiore coerenza e sviluppo della corteccia prefrontale si sarebbe verificato sommando le coerenze delle persone collegate online come possiamo fare con i mezzi che la tecnica e tecnologia ci hanno prodotto oppure radunati insieme sappiamo tutti cosa sta attraversando l'umanità in questo periodo ma cosa ha attraversato anche prima di questo periodo l'umanità guerre terrorismo criminalità insoddisfazione in sofferenza tutto questo purtroppo caratterizza la nostra umanità quando questi gruppi di meditazione trascenetale collegati online e questo effetto è pari al 75% di quello che si produce in presenza quindi un effetto interessantissimo si mettono in quella condizione che vi dicevo 7.30 del mattino 18.30 del pomeriggio tutti i fenomeni negativi come criminalità incidenti stradali ricoveri ospedalieri terrorismo atti bellici diminuiscono certamente ci vuole una percentuale adatta non bastano 10 persone noi infatti tutto questo progetto e questo lavoro di cui Arabella giustamente come dire inviti a produrre lo stiamo portando avanti da tante decine di anni intorno a noi e intorno ho anche l'assistente come vedete stasera il mio gatto Paco questo effetto lo stiamo promuovendo in Romania vicino al confine con l'Ucraina perché abbiamo dei volontari che sono andati volontari che praticano la meditazione trascendentale e le tecniche avanzate della meditazione trascendentale già da diversi anni o mesi anche persone che da pochi mesi hanno imparato la tecnica quindi stanno producendo sul campo su base volontaria questi gruppi di meditazione in Romania in Ucraina e in Russia dove ovviamente possono farlo e noi però Arabella il discorso è che dobbiamo aver imparato la pratica della meditazione trascendentale che è una pratica molto specifica e precisa ti può praticare in tutti gli angoli dell'Italia basta poi collegarsi al nostro sito www.meditazione trascendentale.it e potete cliccare sulla regione dove vivete e cliccare su una conferenza vedendo la data e riceverete la mail con il link per collegarvi per assistere alla conferenza io domani sera alle 20 farò una conferenza per il Piemonte la Valle d'Aosta e la provincia di Varese ma chiunque di voi voglia partecipare può partecipare per sentire poi a chiunque di voi potrò dare il contatto per l'insegnante più comodo nella vostra zona quindi questa tecnica si deve imparare non è come dire mi metto lì e medito noi quando diciamo mi metto lì e medito in realtà facciamo qualcosa che coinvolge l'attività della mente perché intendiamo metto lì rifletto considero approfondisco la meditazione trascendentale non è questo è una tecnica precisa che nella conferenza introduttiva viene così spiegata in maniera dettagliata come cosa si sperimenta come si sperimenta e perché si sperimenta quindi quello che comunque vi voglio dare come completamento della serata di stasera oltre alle informazioni di nuovo che ci hanno riportato a considerare il corso della meditazione trascendentale quindi trascendi per dare il massimo di quieta alla tua mente al tuo corpo e quindi far sì che il corpo possa liberarsi letteralmente di questi accumuli che abbiamo ritrovato ognuno di noi nel proprio percorso di vita perché ognuno di noi è arrivato con una valigina che chiamiamo informazione genica informazione e memoria del nostro DNA detto questo nella medicina iurvedica poi esistono abbiamo detto grazie alla interessantissima pratica dell'analisi del polso la possibilità di individuare in che stadio di malattia siamo o in che stadio se preferite di perdita di salute siamo e quindi poterci riappropriare con tempi più o meno lunghi a seconda di quanto abbiamo trascurato la nostra salute perché la salute la dobbiamo coltivare fin da piccoli io ho il piacere di seguire anche bambini questo fine settimana ho visto una bambina di sette anni carinissima però dei problemi di allergie che sono molto diffusi dei problemi un po' di irrequetezza altrettanto diffusi nei bambini e negli adulti dal polso ho rilevato la sua difficoltà digestiva oltre che al suo eccesso di vata vata pitte caffa sono i tre doscia le tre come dire i tre pannelli di comando dei nostri organi vi ricordo brevemente vata controlla il sistema nervoso centrale periferico alla sede principale nel colon quando aumenta vata abbiamo più gonfiore ma siccome vata diventa leggero incomincia a spostarsi anche da altre parti si muove e va verso la zona di pitta che è fuoco ed è soprattutto negli organi digestivi come lo stomaco il duodeno il fegato quindi vata disturba il fuoco lo trascina da altre parti o lo spegne e quindi perdiamo la nostra buona capacità digestiva alla parte superiore del nostro corpo nella zona del torace c'è la sede principale del terzo doscia che è kafa kafa è acqua e terra quando c'è troppo fuoco quando c'è troppa aria l'acqua e terra si asciugano diventano troppo secche e quindi cosa succede anziché respirare bene perché i miei polmoni i miei bronchi sono belli morbidi belli elastici incomincio ad avere l'attacco allergico l'attacco asmatico questa bambina ha una situazione di questo genere che pur avendo sette anni si è accumulata e sta dando queste manifestazioni allergiche medicina moderna cortisone antistaminico cortisone per via nasale cortisone per aerosol quindi come rovinare la salute a un essere umano fin dai primi anni di vita la bambina adesso non era questo weekend l'altro che l'ho vista sta facendo la sua curetta con i prodotti ayurvedici tra cui anche preparati rasayana voi direte ma rigiovanete sette anni sì perché i nostri organi quando incominciano ad ammalarsi incominciano ad invecchiare anche quando siamo piccoli quando siamo così ecco che è apparso il gatto della mia amicalella quando anche giovani abbiamo pur come dicevo prima ereditato delle anomalie che vengono già dalle generazioni precedenti la bella cosa così vi stavo raccontando questo episodio per dirvi che oggi mi ha chiamato il papà della bambina dico allora come va perché aspettavo delle notizie per capire perché l'organismo dei bambini ha una velocità incredibile di riprese infatti questa bambina sta già meglio e verranno da me a farsi vedere sia il nonno che la nonna quindi capite è come un po' il passaparola se una persona sta bene lo dice poi a un'altra persona questa persona lo dice a un'altra persona io ho la fortuna di fare questo lavoro da 30 anni 34 per la precisione se considero anche il momento in cui sono diventata anche insegnante di meditazione trascendentale in tempi non sospetti come potete immaginare era piuttosto difficile 34 anni fa parlare di queste cose e 30 anni fa lo era lo stesso non ho perso speranza e voglia di portare avanti questo discorso e adesso grazie anche ai risultati che sempre di più le persone che seguo stanno ottenendo ho come dire il ritorno del passaparola di tante persone che vogliono venire da me non voglio darvi come dire l'idea di qualcosa di semplice l'ayurveda è di tutti ma non è per tutti e questo lo dico sempre per farvi capire che con l'ayurveda dobbiamo stringere un patto un patto di devozione di coerenza di sistematicità nel portare avanti il progetto di salute perché non è l'ayurveda prendo una bustina di occhi o prendo 15 gocce di lexoton e poi vediamo domani magari non mi viene più quel disturbo lì no perché così noi cancelliamo solo un sintomo che è un avviso molto importante che il nostro organismo ci dà per far sapere che non sta bene che dobbiamo dargli una risposta ben più profonda di queste armi che poi per carità potrebbero essere necessarie in certi casi però vi ricordo che l'ayurveda conosce tutto l'ayurveda descrive nella nella sua parte una delle sue parti fondamentali la chirurgia quindi alla yurveda non manca niente però per l'ayurveda importante è prevenire non curare curare poi vabbè ci possiamo anche attrezzare per curare però soprattutto dobbiamo prevenire evitare di dover ricorrere poi a un intervento chirurgico invasivo e così via quindi quando facciamo l'analisi del polso scopriamo dove sono gli stadi già più o meno avanzati della malattia perché noi ci ammaliamo già al primo stadio della malattia magari abbiamo solo un po' di gonfiore addominale un po' di mal di schiena ma da lì poi tutto questo andrà avanti con un'intensità maggiore fino a diventare qualcosa di molto grave quindi in questi primi stadi per esempio quando ci sono delle alterazioni non eccessive possiamo intervenire con questi prodotti che vi dicevo sono ringiovanenti rasayana cosa vuol dire letteralmente rasayana rasayana di nuovo è un termine in sanscrito costituito da due radici rasa e ayana rasa è il primo tessuto che si forma da una buona digestione secondo la yurveda la digestione agni il fuoco digestivo è indispensabile per una buona vita per una buona energia per una buona vitalità per una vita lunga per una buona radianza per una buona aura no tutto quello che traspire trasuda dalla nostra pelle dalla nostra immagine è dovuto a un buon agni a un buon fuoco digestivo quando c'è un buon agni dal cibo otteniamo ambrosia quando non c'è un buon agni dal cibo anche biologico più raffinato meraviglioso possibile otteniamo veleno no quindi quando c'è un buon agni dal cibo otteniamo un buon rasa rasa è il primo di sette tessuti che secondo la yurveda si formano quando appunto c'è una buona digestione questi sette tessuti il primo tessuto è quello più liquido e quello dalla cui bontà dipende la bontà e la qualità degli altri sei tessuti e pensate che il settimo tessuto è il tessuto riproduttivo ecco che adesso vi spiegate sicuramente a tante cose come mai c'è tanta infertilità come mai ci sono tante persone uomini e donne soprattutto donne che devono subire questa trafila pesantissima dell'inseminazione artificiale che produce un sacco di danni all'organismo femminile certo voi direte meglio quello che non aver figli per carità posso essere d'accordo però ci sono delle metodiche in ayurveda appunto attraverso l'uso di prodotti che migliorano la nostra digestione di procedimenti che ci permettono di acquietare la mente e di non entrare in un ritmo troppo stressato di vita che ci possono portare ad avere poi nell'età fertile ovviamente una buona capacità di procreare perché qui se non andiamo a mondo figli ovviamente il mondo finisce quindi già abbiamo tutti questi venti di guerra che ci circondano che stanno sterminando una parte dell'umanità immaginatevi se non abbiamo un buona possibilità di riproduzione come possiamo andare a finire quindi quando si forma un buon rasa questo primo tessuto fluido liquido si formano bene gli altri tessuti gli altri tessuti sono per esempio l'emoglobina il tessuto muscolare il tessuto adiposo il tessuto osseo il midollo osseo e come ultimo tessuto il tessuto riproduttivo ma tra un tessuto e l'altro e alla fine del procedimento di formazione di questi tessuti si forma una sostanza molto importante che nella medicina ayurvedica si chiama Ojas Ojas è la linfa vitale è la linfa vitale che produce e mantiene la nostra vitalità la nostra energia la nostra intelligenza la nostra tolleranza la nostra tolleranza all'ambiente la nostra tolleranza ai processi di trasformazione no ultimamente la gente è sempre più intollerante no se esce da quello schema succedono dei pasticci non tollera una minima variazione nella quotidianità certo questo può disturbare per carità da tanti punti di vista ma se abbiamo una buona elasticità questo ci mantiene assolutamente più efficienti e più giovani quindi rasayana è una sostanza ma anche dei comportamenti che nutrono rasa e da rasa rasa ayana ayana vuol dire diffondere si diffondono negli altri tessuti quindi sono piante medicinali sono preparati che uniscono tra di loro queste piante medicinali per esempio una pianta medicinale da noi molto comune e molto poco capita è la liquerizia la liquerizia è una pianta rasayana una pianta ringiovanente la radice di liquerizia noi ne produciamo di buonissima in Calabria e vi ricordo che non è vero che fa alzare la pressione dipende le dosi con cui la assumi e dipende con quali altre piante combinate la yurveda è una conoscenza così profonda ha una conoscenza così profonda dalla della combinazione delle piante che non lascia niente di improvvisato la liquerizia perché può rialzare la pressione perché pacifica si dice no pacifica vuol dire equilibria vata e pitta no vata quindi il movimento pitta il calore non equilibria cafa cafa che cos'è la pesantezza i liquidi in eccesso quindi non equilibrando cafa cosa succede nell'organismo se tu prendi solo liquerizia aumenta l'edema aumenta la costrizione venosa e arteriosa e di conseguenza può aumentare la pressione ma la liquerizia nei prodotti ayurvedici è no Mariella non sono calabrese sono piemontese ma chissà in qualche generazione precedente può anche essere che sia passata dalla Calabria o dalla Sicilia o dalla Sardegna tutte le nostre belle regioni italiane quindi combinando in maniera adeguata come la medicina ayurvedica sa fare la liquerizia con altre piante la liquerizia è ottima per l'apparato respiratorio per l'apparato digerente ed è un rivitalizzante un ringiovanente altre piante medicinali molto conosciute nella tradizione ayurvedica che sono rasayana sono l'emblica officinalis la terminalia chebula la terminalia bellerica sono tre frutti presenti in diverse preparazioni ayurvediche che hanno questo effetto simile all'effetto della vitamina C ma molto più stabile della vitamina C quindi sono nutrienti antiossidanti ringiovanenti poi ci sono quelli che si chiamano i media rasayana media vuol dire mente quindi rasayana per le facoltà mentali tra queste la bacopa monieri o brami la svaganda o vitamina somnifera la centella asiatica o manduca parmi la spara ragus racemosus o shatavari tutte queste piante che vi cito singolarmente non vanno assunte singolarmente le trovate combinate nei nostri ottimi preparati ayurvedici che poi trovate farmacia arboristeria parafarmacia questi preparati perché vanno come vi dicevo diciamo devono essere il risultato della combinazione di più piante perché come in un'orchestra il suono di un violino insieme a un sassofono insieme a un pianoforte insieme a un oboe e via via una chitarra e così via è molto più armonioso che il suono di un unico pianoforte questa armonia che si crea e che dà questa piacevolezza di ascolto assolutamente si verifica anche nell'assunzione di questi prodotti con questa antichissima saggezza di combinazione di piante tra di loro quindi non prendete in monocomponenti adesso sono di moda perché adesso si è scoperto che brami va bene per la la memoria ma brami da solo fa poco o niente alla nostra memoria e soprattutto lo fa per un tempo limitato invece i preparati ayurvedici possono e devono essere assunti a lungo perché è proprio nel lungo termine che danno tutti questi vantaggi vi voglio solo aggiungere un piccolo dettaglio prima vi dicevo che non sono solo le piante medicinali ma anche gli alimenti che hanno un effetto rasayana e tra i rasayana la ayurveda mette al primo posto il miele di buona qualità e vi ricordo molto importante perché scopro sempre molte persone che non lo sanno che il miele non va scaldato il miele a 38 gradi forma sostanze tossiche non solo indebolisce le sue qualità ma forma sostanze tossiche difficili da eliminare dal nostro corpo oltretutto il miele non è un dolcificante sì quando parlo di liquirizia parlo dei bastoncini legnosi ovviamente la liquirizia quella nera è il succo della liquirizia quindi nelle preparazioni ayurvediche si usa il bastoncino infatti si chiama in sanscrito yasti madu bastoncino dolce madu vuol dire dolce yasti bastoncino quindi quando noi prendiamo dei preparati ayurvedici li possiamo portare avanti a lungo mentre il fitoterapico si dice sempre va sospeso e poi ripreso proprio perché il fitoterapico non ha questa combinazione di più piante tra di loro quindi il miele è un rasayana e vi dicevo non è un dolcificante perché il suo sapore predominante è astringente e quindi va molto bene anche per le persone che devono ridurre un po' il peso corporeo non è che mangiando cucchiaiate di miele uno dimagrisce parliamoci chiaro dimagrire vuol dire sempre avere un buon agri quindi un buon processo digestivo e mangiare in maniera adeguata rispettando il fatto che il nostro stomaco è grosso come le nostre due mani messe a palmo e va diviso in tre parti due parti una parte verrà riempita dal cibo solido una parte dal cibo liquido una parte deve rimanere vuota per il movimento di vata pitta e caffa quindi mangiamo troppo per perdere peso bisogna mangiare poco mangiare il pasto principale al pranzo non dico saltare la cena ma mangiare solo un po' di verdura cotta al limite un po' di riso un legume alla sera a cena nient'altro di questo colazione leggera senza esagerare quindi il miele è un rasai tra gli alimenti il ghi è un rasai tra gli alimenti ve ne ho già parlato in altre dirette il ghi è il burro chiarificato burro che quindi quando viene cotto lentamente perde caseina lattosi umidità rimane un grasso estremamente ricco di vitamina A vitamina E vitamina D vitamina K alza il colesterolo buono riduce quello cattivo nutre il cervello fa passare le sostanze buone a livello del cervello tiene bene le cotture dei cibi perché ha un punto di fumo molto alto e trasforma le sostanze che dobbiamo cuocere le verdure i cibi che cuociamo in sostanze più facilmente digeribili perché aumenta agni terzo alimento rasai era molto bistrattato è il latte di mucca il latte di mucca di mucca felice di mucca che pascola di mucca che non è sfruttata è un alimento che abbiamo mangiato fin da piccoli e che assolutamente se è di buona qualità bevuto da solo perché il latte non va contaminato con cose salate con la carne con il pesce con le cose acide allora in quel caso lì diventa un rasayana diventa qualche cosa che nell'arco di 24 ore nutre tutti e sette i tessuti e per concludere nella medicina ayurvedica si parla di achara rasayana rasayana comportamentali quando io mi comporto bene rispetto gli anziani dico la verità rispetto il mio prossimo rispetto la natura do una mano a chi in difficoltà creo rasayana automaticamente senza aver bisogno di prendere preparati rasayana quindi ringiovanisco la natura mi sostiene ringiovanire non è solo un vezzo estetico ringiovanire è avere degli organi che reagiscono meglio e ci sostengono meglio ecco io direi che il mio argomento è finito anche perché tra i rasayana c'è anche quello di andare a dormire presto stasera abbiamo sforato un po' sono contenta che abbiate partecipato a questa diretta ci rivedremo perché sono sempre invitata da a ballantini a fare le mie dirette quindi ci rivediamo a giugno ripeto la yurveda tutto quello che vi ho detto è assolutamente stravero però dobbiamo fare un percorso che per qualcuno potrà essere più lungo più impegnativo per qualcuno più veloce più rapido perché dipende da quanto abbiamo alterato la nostra fisiologia buona serata a tutti grazie di aver partecipato e a presto grazie Anna e grazie a tutti voi buona serata